ciao a tutti allora 27esimo video della witch youtube challenge e la domanda di oggi è parla di una divinità e della tua esperienza con essa allora visto che bisogna scegliere una divinità non scelgo ecate non vi preoccupate allora la divinità di cui voglio parlare oggi è pan perché la prima divinità maschile che è venuta a presentarsi diciamo così nella mia vita allora la mia storia con pan detto così sembriamo due amanti comunque la mia storia con pan è iniziata quando io avevo diciamo 13 14 anni così dove la sua figura si è dove anzi non la sua figura dove io l'ho conosciuto come il diavolo no ovviamente io mi sentivo sempre le mie le storie sul diavolo su cose male su cose bene e ho cominciato a provare una qual certa affezione per questa creatura chiamiamola così per questa per questo personaggio ecco a notare che io non sapevo la differenza ancora fra il diavolo satana e lucifero per me era una stessa identica cosa ma non importa quindi per me a me quello che faceva più che mi affascinava forse di più era questa dualità no il fatto che fosse soprattutto per quello che riguarda lucifero una divinità una divinità scusa un personaggio duplice no perché comunque era il più bell'angelo di tutti e poi è arrivato a cadere diventare il più malvagio di tutti e poi tutte le varie leggende relative comunque al diavolo relative a tutte le sue storie quindi passiamo dalla storia con jack o lantern che ve l'avevo raccontata nella youtube cancella nj come jack o lantern magari vi lascio il link da qua sopra sia le altre leggende ad esempio del mago berlino della nascita del mago berlino e di altre cose e mi ha sempre affascinata però al tempo stesso anche mi metteva un po paura perché comunque è una divinità dai è questa divinità un personaggio una figura comunque molto nera diciamo così nel senso che è molto comunque malvagia eccetera eccetera e poi ho scoperto diciamo il perché il per come il diavolo fosse come fosse nato quindi dalla figura del dio pan e ho cominciato a leggere qualcosa di pan ho cominciato a interessarmi di lui e sentivo una qual certa affinità no l'ho messo nel mio pan, diciamo così da subito da quando ho iniziato questo percorso che sono un anno e tre mesi da subito e poi lui è venuto da... è venuta la chiamata e tale chiamata è venuta... è avvenuta in sogno dove ovviamente ve lo racconto in maniera molto leggera cioè non mi racconto tutti i particolari comunque dove lui si è palesato sotto forma di diavolo perché ancora forse nel mio inconscio mi avrebbe colpita di più forse inconsciamente lo collegavo ancora comunque a quella figura lì più che alla sua originale comunque è venuto in forma di diavolo diciamo e mi ha portata nel suo regno tramite una porta segreta mi ha fatto anche vedere come uscire dal suo regno ricordandomi che comunque pochi sapevano dov'era e quelli che sapevano dov'era non riuscivano mai a uscire mi ha fatto vedere in pratica sia l'entrata che l'uscita diciamo così e mi ha lasciata con una frase che ricorderò sempre che adesso non cito però che me la ricorderò che c'era impressa nella memoria comunque praticamente dove mi invitava a seguirlo praticamente mi invitava a tornare da lui e a seguirlo e io mi sono svegliata con un sorrisone e mi ricorderò sempre che sono andata dai miei e poi quando sono andata a trovare mia zia da mia zia sono andata da loro a dirgli che praticamente avevo segnato il diavolo che era mio amico e li ho lasciati un po' così o un po' così senza stargli a spiegare la simbologia così e lì c'è stata la chiamata e ho lavorato con Pan diverse volte ammetto che all'inizio mi spaventava comunque un po' perché ero ancora un po' succube delle leggende relative comunque al diavolo e alla figura del diavolo quindi mi spaventava l'enormità del suo potere poi piano piano che l'ho conosciuto piano piano anche festeggiandolo durante il suo giorno facendomi delle ricerche l'ho percepito diciamo più come una figura di sicuro più luminosa di quello che viene detto in giro ma soprattutto ho capito qual è il nostro rapporto ora io non ho proprio le parole per descrivervi il nostro rapporto quindi vi farò un esempio avete presente ad esempio voi avete magari uno zio no? se ce l'avete se non immaginatevelo che magari è particolarmente bonaccione, scherzoso, cose così allo stesso tempo è molto potente e sa di essere potente e usa questo suo potere per schermarvi per proteggervi da tutto il resto che vi circonda ecco il mio rapporto con Pana è così cioè se devo proprio dirla proprio un po' brutalmente diciamo che Pana è come uno zio più o meno per me in questo senso qua cioè questo è il rapporto che c'è io sono consapevole del suo potere lui ovviamente è consapevole del suo mi ha aiutato a scoprire il mio e mi protegge e ho lavorato con lui diverse volte subito io quando devo lavorare con una divinità parto con una cota da non nulla per un po' tastare il terreno e infatti diciamo che comunque mi ha sempre dato una mano e ho capito come lavorare con lui nel mio caso ovviamente non è che se qualcuno di voi adora Pana ovviamente sarà diverso perché il rapporto tra voi e lui è diverso ma nel mio caso ho capito che quando chiedo il suo aiuto lui interviene solo quando c'è veramente necessità io mi ricordo una volta dove stavo scrivendo non mi ricordo più bene cosa comunque era qualcosa di importante per cui avevo chiesto il suo aiuto e mi ricorderò sempre che scrivevo e a un certo punto mi sono ritrovata a leggere poi alla fine come era venuto questo testo diciamo così che avevo scritto e mi ricorderò sempre che ho notato come certi collegamenti non fossero miei perché non li avevo mai fatti e di sicuro non li avevo scritti io e lì ho capito come lavorare con lui e mi ricordo di aver avuto dei blackout cioè nel senso io non c'ero più la mia mano continuava a scrivere io proprio non c'ero e nel momento in cui ritornavo vedevo che avevo scritto qualcos'altro e quindi mi sono resa conto di come lavorare con lui nel mio caso praticamente la mia mente alza una barriera diciamo anzi lui fa alzare alla mia mente una barriera di modo che io proprio non ci sono e la sua energia attraverso di me compie quello che c'è da fare praticamente quello che è necessario da fare e boh ma questa è la mia la mia esperienza con lui e fino adesso va ce va ancora a confidere e niente io vi lascio un bacione vi auguro una buona giornata e se avete voglia di condividere anche voi delle vostre esperienze con delle divinità se avete domande eccetera eccetera già lo sapete potete scrivermi in forma pubblica o in forma privata le modalità già le sapete vabbè qua sotto sotto i posti la strega del lupo come messaggio privato la strega del lupo oppure direttamente a me e niente io vi lascio un bacione vi auguro buona giornata e noi ci vediamo prossima settimana con il video numero 28 vi auguro buona giornata vi auguro buona giornata vi auguro buona giornata Grazie a tutti.